wey bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi dobbiamo parlare di deadpool della skin gratuita che arriva proprio tra pochissimo tra poche ore ci saranno le coppie di sfide la coppia di sfide che ci regalerà questa bellissima questo bellissimo outfit con la maschera la sfida ci chiederà di trovare le doppie pistole di deadpool e quindi dove sono semplice andiamo nella lobby sulla sezione del pass battaglia dove ci sono gli agenti e per la precisione nella gente miascolo in questo modo esattamente nella parte destra in basso dove c'è dove ci sono tutti questi pesi e dove c'è il sacco da box troverete la pistola premeteci sopra prendetela la seconda missione vi chiederà invece di trasformarvi nella cabina telefonica ed è molto semplice perché se non ricordo male dovete raggiungere l'isoletta quella vicino allo yacht che dovrebbe avere proprio una cabina la utilizzate per trasformarvi raggiungete lo yacht e avrete deadpool tutto molto semplice se avete qualche dubbio passate da me in live su twitch io vi aspetto di là ciao ciao